buona ragazzi sono qui al lago dei caprioli oggi si pesca anche oggi montatura galleggiante e ho cominciato con un amo da trota ma poi penso che andrò più su qualcosa di piccolo perché l'acqua è bassa di trote se ne vedono oggettivamente zero quasi zero quindi penso che andrò di qualcosa di più piccolo e vediamo insomma qualcosa tiriamo su allora ragazzi la montatura ho dovuto mettere un amo 18 perché trote non se ne vede l'ombra e ho preso un paio di persici piccini piccini dopo vi farò vedere la foto e adesso ho messo su il cucchiaino perché comunque io il tentativo di andare a qualche trota lo voglio provare a fare ma è molto difficile perché l'acqua è troppo bassa e non riuscendo arrivare in centro farò molta fatica però pazienza almeno i due persici li abbiamo portati a casa buona fiore come vedete ho già riposto via le mie canne da pesca stato quasi tutta la mattina trote ce ne sono tante ma non avevo l'attrezzatura adatta non avevo un cucchiaino abbastanza lungo da lanciare in mezzo e non avevo camole per poter pescare galleggiante quindi va bene così abbiamo preso quei due persici che adesso vedete che avete visto in foto c'è un persico ho fatto la foto l'altro era uguale e ovviamente ho ributtato niente ragazzi al prossimo video